La serata di ieri ha segnato la conclusione emozionante del Grande Fratello, con Perla Vatiero e Beatrice Luzzi che si sono classificate rispettivamente al primo e al secondo posto. Perla Vatiero, il cui percorso è stato caratterizzato dal desiderio di redenzione personale e dalla riconciliazione con Mirko Brunetti, ha trionfato nella finale del GF. La reazione di Perla alla vittoria è stata immediata dopo che il nome è stato pronunciato da Alfonso. Visibilmente commossa e incredula, ha espresso la sua gratitudine verso i suoi sostenitori e poi si è precipitata tra le braccia di Mirko Brunetti, l'unico a cui ieri sera ha dichiarato il suo amore e con cui tornerà ufficialmente insieme. Il percorso di Perla Vatiero, da ex partner di Mirko, ha suscitato il sostegno e l'affetto del pubblico, il quale ha premiato la sua determinazione nonostante le sfide affrontate contro Beatrice Luzzi. Tuttavia, nonostante la sua vittoria, c'è chi sui social media ancora mette in dubbio il successo di Perla. In effetti, indipendentemente dalle opinioni contrastanti, il percorso travagliato di una donna verso il successo merita sempre rispetto e ammirazione.